Insieme agli annunci relativi al passaggio della provincia di Ancona in zona rossa a partire da oggi e della chiusura Iesi delle scuole di ogni ordine grado, sono state rese note le misure del nuovo DPCM che entreranno in vigore a partire dal prossimo 6 marzo e saranno valide fino al 6 aprile. Tante le conferme rispetto alle misure precedentemente stanziate, a partire dall'assegnazione della fascia di rischio per ciascuna regione con le zone bianche, gialle, arancioni e rosse. Non si potrà viaggiare in comuni diversi rispetto a quello di residenza se ci si trova in zona arancione o rossa, mentre gli spostamenti verso le seconde case saranno consentiti soltanto al nucleo convivente, che però non potrà muoversi se vive in un territorio designato in zona rossa o se la seconda abitazione si trova a sua volta in un'area inserita nella più alta fascia di rischio. Confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5 che nelle zone bianche partirà alle 23, mentre gli spostamenti tra regioni rimarranno bloccati fino al 27 marzo. Per quanto riguarda le scuole, la didattica a distanza tornerà nelle regioni posizionate in area rossa, mentre nelle fasce gialle e arancioni saranno i governatori a decidere la chiusura delle scuole in base al peggioramento dei contagi, oppure nelle zone in cui ci siano più di 250 contagi ogni 100.000 abitanti. In merito alle attività commerciali, bar e ristoranti rimarranno aperti al pubblico nelle zone gialle dalle 5 alle ore 18, mentre nelle zone bianche la chiusura slitterà alle 21 per i bar e alle 23 per i ristoranti. La possibilità di effettuare domicilio a sporto rimarrà attiva in ogni caso e sempre il servizio ad asporto sarà consentito fino alle 22 anche alle enoteche o agli esercizi di commercio al dettaglio di bevande. Confermata fino alla zona arancione l'apertura dei negozi al dettaglio, mentre nelle giornate festive e prefestive saranno chiusi gli esercizi all'interno dei centri commerciali. Ancora sospese le attività di palestre e piscine, mentre in zona rossa dovranno tornare ad abbassare le saracinesche anche i parrucchieri, i barbieri e i centri estetici. Sul fronte novità, in zona gialla a partire dal prossimo 27 marzo, i musei, oltre che nei giorni infrasettimanali, potranno aprire anche nei festivi e nei weekend. E dallo stesso giorno torneranno attivi anche teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati e una capienza delle sale non superiore al 25% del totale, con un massimo di 200 spettatori al chiuso e 400 all'aperto. Le misure imposte però non sembrerebbero creare le condizioni idonee per una vera ripartenza, come spiegato anche da Massimiliano Giometti, il quale ha affermato che con queste premesse le sale cinematografiche Giometti a Pesaro non riapriranno. Le sale Giometti, Pesaresi, non è sicuramente possibile aprire in queste condizioni. Aprire delle strutture senza una programmazione preventiva sarebbe un delirio. Il cinema è una macchina complessa, come lo sono i teatri, nel senso per far partire una stagione teatrale o per far partire una programmazione cinematografica continuativa, e sottolineerei questo vocabolo perché riaprire per poi richiudere sarebbe una morte certa, e ci vuole programmazione, programmazione, comunicazione preventiva, nel senso che dobbiamo sapere prima quali film possono essere distribuiti per comunicarli all'eventuale pubblico. Consideriamo che i film americani già non ci sono da un certo periodo, alcuni sono andati direttamente sulle piattaforme, ma qui anche quelli italiani. I film italiani, notizie di qualche giorno fa, anche quello di Verdone, che era uno di quelli che si aspettavano di produttare al cinema, usciranno sulle piattaforme. I film ci sono, i film ci sono fermi, purtroppo però non è che sono disponibili tutti ad uscire, oltretutto stiamo andando anche verso una fase di cui il cinema solitamente è un caso fisiologico, andando verso l'estate. Quindi anche se si apre adesso, nessun regista o nessun produttore di un film più importante penserebbe di farlo uscire subito in un periodo così incerto, soprattutto con una limitazione così ampia dei posti. Ci aspetterebbe settembre, ottobre, autunno per vedere un pezzo di rodaggio, ma noi il rodaggio lo facciamo sulla nostra schiena.